L'argomento che dobbiamo affrontare è un argomento un po' particolare. Prima che iniziassimo il Vicepresidente dell'Ordine ha detto è tanti anni che affrontiamo questo argomento e io devo dire che ho una legittima punta di orgoglio e di soddisfazione rispetto alla prima volta in cui in un evento dell'Ordine, credo più di vent'anni fa o giù di lì, affrontavamo questo argomento, molte cose sono cambiate. Molte, molte, molte. Però insomma sono cambiate molte cose ma di strada da fare ne abbiamo ancora tanta. Allora ho pensato che fosse doveroso chiarire dall'inizio di cosa parliamo perché in realtà quando si parla di sesso più o meno un pochino tutti sanno che cos'è. È un po' come quando si parla del nostro lavoro fuori dall'ambito degli psicologi, cosa vi sentite dire? Sono anch'io un po' psicologo, no? Esatto. E quindi siccome un sesso, bene o male, uno di qualunque tipo ce l'abbiamo tutti, bene o male pensiamo di poterne parlare. Sembra strano di dover studiare questi aspetti. In realtà stiamo parlando di una cosa, questa è una banalissima definizione da enciclopedia. La sessualità è un aspetto fondamentale e complesso del comportamento che riguarda sia gli aspetti riproduttivi, sia quelli di ricerca del piacere, che quelli sociali. E quindi è un oggetto di studio, un campo di pertinenza, di biologia, psicologia, cultura e anche molte altre cose riguarda la crescita dell'individuo e coinvolge tutta la sua vita relazionale, secondo me anche non relazionale. Con il termine attività sessuale invece ci si riferisce esplicitamente alle pratiche. La cosa interessante è che già da una quarantina di anni e più anche l'OMS ha deciso di stabilire che cosa intendiamo per salute sessuale. E vedete che si parla di integrazioni di tutti questi aspetti che abbiamo detto prima, psicologici, biologici, relazionali e quant'altro, ma realizzati in maniera da valorizzare la personalità, la comunicazione e l'amore. È una definizione molto bella a mio avviso questa dell'OMS sia perché comincia ad avere una certa età ed è pur sempre attuale ma anche perché in un certo qual modo sancisce in maniera più o meno esplicita dei diritti e stabilisce anche l'OMS i presupposti per avere una salute sessuale quindi essere capaci di gioire di un comportamento in armonia con l'etica sociale e personale essere privi di sentimenti di timore, vergogna, colpe e false credenze o altri fattori psicologici che inibiscono e compromettono la relazione essere privi di turma, malattie, deficienze organiche che interferiscano l'ultimo è l'aspetto prettamente medico, clinico, in senso stretto io vi inviterei a tenere bene a mente i presupposti per la salute sessuale i due punti precedenti soprattutto l'essere privi di sentimenti di timore, vergogna, colpe, false credenze e altri fattori che inibiscono il comportamento e la relazione nel 1997 l'Associazione Mondiale di Sessuologia ha anche promulgato una dichiarazione dei diritti sessuali che poi è stata ratificata nel 99 e in sostanza, nella frase cruciale, dice che la sessualità è parte integrante della personalità di ciascun essere umano e che i diritti sessuali sono universali quindi appartengono a chiunque basati sulla libertà, dignità ed eguaglianza di tutti gli esseri umani e quindi insomma stiamo ancora una volta dal punto di vista clinico, dal punto di vista dell'OMS o dal punto di vista di una esplicita dichiarazione dei diritti stiamo ancora una volta sottolineando la pari dignità, i pari diritti e come possiamo dire l'aspetto costitutivo nella nostra esistenza della sessualità però, ci sono dei però il però è che se questo è un aspetto che riguarda tutti possiamo dire che è uno degli aspetti che ci accompagna dal momento in cui nasciamo, anche prima in realtà ma comunque diciamo dalla nascita fino alla fine del nostro percorso su questa terra è anche vero però che ci sono una serie di pregiudizi e i pregiudizi in tema di sessualità sono tantissimi e non solo risalgono indietro nei tempi ma ce ne sono ancora nei tempi attuali se poi dobbiamo parlare di una categoria ulteriormente soggetta a pregiudizi come sono gli anziani cominciamo ad avere la somma di due tipi di pregiudizi e di stereotipi diversi volendo ci aggiungo anche se poi parliamo di una terza categoria soggetta a pregiudizio che sono le donne allora abbiamo veramente un vespaio di pregiudizi e di stereotipi ho trovato un articolo molto interessante che inizia esattamente con questo corsivo la prima frase che vedete dove c'è questo squimish siamo così schifitosi nei confronti della vita sessuale dei vecchi e lo siamo ancora di più se questi vecchi sono molto vecchi o sono i nostri genitori e con questa frase direi che abbiamo già detto non dico tutto ma in buona parte da dove deriva la radice un po' dei nostri pregiudizi potremmo dire che c'è in chiave psicoanalitica in chiave psicodinamica c'è una forte componente edifica possiamo anche vederla da un altro punto di vista potremmo anche dire semplicemente che anche se siamo anche se sono passati tantissimi anni ancora continuiamo a mettere insieme almeno due tipi di pregiudizi quello riguarda i vecchi quello riguarda il sesso ossia questo falso pregiudizio del giovanilismo cioè se dobbiamo pensare a dei corpi in un'attività erotico sessuale è molto più semplice immaginarci dei corpi che siano esteticamente belli performanti perfetti e che facciano le cose nel modo in cui piacciono a noi benissimo poi però dovrei tornare nella vita reale e pensare che appunto tutte le persone sono dotate di una sessualità e che quindi la manifestazione della loro sessualità ancorché è privata ma insomma è una cosa che riguarda loro e non deve farci scattare questi pensieri questi freni queste inibizioni dall'altro lato ancora un'altra citazione interessante e questa è una citazione fatta da una delle prime ricerche con interviste dirette sulle persone anziane un'intervista del 49 e questa era una studiosa di invecchiamento e che è diventata vecchia a un certo punto e dice non vedo nessun cambiamento in me stessa da quando sono passata nell'età anziana anche perché veramente noi stabiliamo dei limiti però insomma uno non è che si sveglia e dice ah cazzo oggi ho compiuto 65 anni e sono anziano cioè ci sono magari delle cose che te lo fanno ricordare non so a 80 anni non paghi il canone della RAI a una certa età hai la carta d'argento ci sono dei segnali che ti vengono mandati ci sono dei segnali che ti manda anche il corpo però insomma non è che uno si sveglia una mattina e cambia categoria e questa signora che è già anziana dice ma io da quando sono diventata vecchia non vedo nessun cambiamento in me stessa sono la stessa me stessa che ero già prima e anche questo ci deve far riflettere le persone quelle sono e non è che all'improvviso cambiano altro aspetto importante su cui dobbiamo concentrarci la letteratura ci ricorda che i bisogni sessuali i bisogni di intimità di relazione di corporeità delle persone anziane così come quelli nostri o come quelli vostri che siete più giovani sono bisogni unici e niente può prenderne il posto non solo il benessere e i benefit in termini di salute psicofisica che derivano da una attività sessuale una relazione desiderata ovviamente non possono essere sostituiti da nessun'altra attività analoga perché non esiste un'attività analoga e quindi non possono essere sostituiti dall'amicizia dalle relazioni sociali eccetera eccetera cioè i benefici dell'attività sessuale quelli sono sono molto complessi sono molto integranti nella persona e non sono sostituiti con un analogo il problema grosso è appunto che spesso per semplicità si tende a ragionare per per stereotipi per scorciatoie e quindi si tende a pensare che i vecchi sono una categoria omogenea cioè sono tutti uguali come se anche qua improvvisamente siamo tutti differenti poi ci alziamo una mattina ma nono 65 anni adesso sono uguali a tutti gli altri no sono io avevo gli stessi interessi come dice la signora nel 49 dice ma io non ho visto nessun cambiamento mi pare che sono sempre quella è vero ci sono stati questi grossi pregiudizi nei confronti degli anziani e anche la letteratura ci ricorda faccio tutte le citazioni però insomma le avrete anche le avrete studiate la teoria del disimpegno queste cose qua la letteratura ci ricorda come ci sono state e ci sono tuttora delle pressioni sociali per cui in un certo qual modo si tenderebbe a sperare o a spingere gli anziani perché si conformino a un certo modus di essere e quindi o gli anziani sono quelli borbottoni depressi quelli che vanno a vedere i cantieri se sono maschi o la telenovela se sono femmine sì gli umarelli non so come si chiamano oppure sono quelli che agiscono comportamenti giovanilistici che a me fanno anche un po' paura la signora stravecchia in minigonna con i tacchi a spillo penso sempre che si rompa il femore vado un po' in ansia o il vecchiaccio vorrei ma non posso con lo spade cioè voglio dire sembra che ci sono solo queste due categorie di anziani cioè o il nonno o il figacione fuori tempo e spesso bisogna dire che queste scorciatoie in modo di pensare sono anche aggravate da aggettivi spiacevoli no? la letteratura è carina riporta solo quelli a carico dei maschi e quindi il condo Casanova che è bruttissima e poi il vecchio sporcaccione abbiamo noi in italiano e via dicendo ce ne sono anche sulle femmine il problema qual è? il problema è che se si va a vedere la letteratura la letteratura scientifica è anche quella un po' meno scientifica perché insomma bisogna andarsi a vedere tutto se si va a vedere la letteratura si vede che in Italia e anche altrove anche il personale sanitario non è immune da questi stereotipi questi pregiudizi di queste scorciatoie e su questo aspetto sì che abbiamo fatto veramente pochissima strada da quando ne parlavamo le prime volte abbiamo fatto più strada sui diritti e molto meno sull'atteggiamento del personale sanitario il personale sanitario non è immune perché credevo fosse un difetto prevalentemente nostro che siamo latini siamo più cattolici siamo più conservatori invece vedo che nella letteratura si continua a sottolineare anche fuori dall'Italia anche in ambito internazionale che in particolare i medici di famiglia ma udite udite non ditelo fuori da qua anche i geriatri hanno difficoltà a parlare di questioni sessuali con i loro assistiti ed è una grandissima fregatura perché quando io vado a fare una visita al medico di medicina generale o vado a fare una visita al geriatra è ovvio che mi aspetto che mi chieda informazioni sui vari aspetti della salute della mia vita ok e invece no risulta sia da questionari da interviste dirette da autovalutazioni eccetera eccetera con qualunque modo si vada a indagare questo problema risulta che c'è questo fortissimo disagio nel dover affrontare l'argomento sesso con i loro pazienti e se si va a intervistare i pazienti si scopre che la cosa è reciproca cioè i pazienti affermano confermano che sia il medico di famiglia che lo specialista geriatra o lo specialista di turno che ha a che fare con qualcosa che potrebbe intaccare la sfera sessuale non parla di sesso e quindi di conseguenza l'anziano o l'anziana si sente in difficoltà perché dice se non me ne parla questo cioè la difficoltà è gli chiedo se questo interferisce sulla mia attività sessuale o penserà che sono una vecchia ringaluzzita o che sono un maniaco sessuale sto zitto questo è l'effetto in due parole quindi c'è questo fortissimo disagio nel dover parlare di sesso e quindi di conseguenza omissione di informazioni sulla sessualità poi c'è questa confusione per cui si crede che la sessualità abbia a che fare solo con la procreazione quindi pensiamoci bene dieci volte perché purtroppo sono cose che sento dire ancora adesso anche tra persone acculturate pensiamoci bene se la sessualità è un diritto solo per chi può procreare chi ha avuto l'avventura o la sventura di nascere sterile o chi non desidera avere figli il sesso non lo deve fare e quindi le donne menopause al sesso non lo devono fare cioè c'è qualcosa che non torna non è solo procreazione e non è solo patologie sessuali non devo parlare di sesso con una persona solo per sapere quando si va a fare gli interventi i maschietti vanno a fare alcuni interventi alla vescica o all'uretra lei desidera avere ancora figli sì perché allora non è quello non è quello sto parlando della vita sessuale ci sono ancora dei preconcetti per cui si pensa che all'anziano non interessi avere una vita sessuale punto basta ci sono dei preconcetti per cui in ambito sanitario si tende a credere che a un certo punto ci siano dei valori che sono prevalenti rispetto all'avere una vita erotica e quindi lo sapete che circola ancora il pregiudizio per cui chi ha avuto un infarto è meglio che smetta di fare sesso la fatta è che se hai avuto un infarto a 90 anni può anche darsi che hai già smesso ma se l'infarto l'hai avuto a 37 40 anni come purtroppo spesso capita insomma sono sciagure vuol dire che tutto il resto della tua vita più niente c'è ancora questo pregiudizio e ancora circolano in alcuni ambiti alcuni commenti o risposte atteggiamenti tipo ma il paziente gli ha chiesto se può quando riprendere l'attività sessuale beh beh ma insomma è sopravvissuto a un tumore che cosa vuole che gli interessi certo siccome è sopravvissuto a un tumore tutto il resto vado a farsi friggere è sempre qua no? poi si parla di qualità di vita ci dicono quando scampiamo da una malattia o ci prendiamo cura di noi stessi che dobbiamo continuare a fare le cose che ci piacciono e farne anche di più e quindi vado a fare le passeggiate signora vado al cinema vado al teatro si faccia i capelli vado dall'estetista posso andare con un uomo o con una donna o con chi mi pare no ecco è questo no? c'è questa enorme confusione enorme pregiudizio enorme cattiveria potremmo anche dire tale per cui si tende a pensare al sesso solo se ha a che fare con una malattia e si tende a pensare agli anziani che potrebbero essere interessati al sesso e di fatti lo sono come delle persone un po' aberranti e questo è sentito in maniera molto forte perché soprattutto arriva da figure competenti cioè se io non posso parlare con il mio medico di famiglia di questioni che riguardano il sesso con chi ne devo parlare? con l'edicolante con il barista che hanno l'età dei miei figli dei miei nipotini non credo e quindi siccome è un pregiudizio alquanto diffuso o siccome circolano anche in giro battutacce sulle donne di una certa interessate al sesso o battutacce per cui le uniche femmine maschi appetibili come partner sono quelli entro i 30 anni e con determinate caratteristiche fisiche va da sé che la persona anziana autonomamente tenderebbe anche un po' a farsi in parte o assorbire questi pregiudizi la famosa sindrome da breakdown eppure potremmo ricordarci che l'organo sessuale più importante ce lo dicono gli scienziati è quello che sta fra le nostre orecchie quindi non fra le nostre gambe è fra le nostre orecchie forse dovevo sottolineare orecchie che le persone anziane hanno bisogno di vicinanza e intimità che includono sentimenti d'amore passione e piacere e che il potenziale di piacere erotico comincia con la nascita provate a pensare al momento del cambio del pannolino a un bambino si vede che prova del piacere non gli sa dare un nome specifico ma insomma è una cosa piacevole il potenziale di piacere erotico inizia con la nascita e può finire solo con la morte ovviamente l'età influenza in qualche modo l'andamento ma orgasmi in maschio e femmine sono stati osservati anche dopo il compimento del novantesimo anno d'età e questa citazione che vi faccio è vecchissima risale all'inizio degli anni 70 se non prima per cui queste cose le sappiamo da 50 anni queste cose veramente le diceva anche Kinsey però insomma le diceva con altri metodi i Kaplan l'hanno detto con metodo scientifico allora riassumiamo in velocità la letteratura scientifica ci ricorda che non esiste un limite massimo d'età per l'attività erotica quindi ricordatevi dalla nascita fino alla fine ovviamente dall'età dello sviluppo emotivo e fisiologico per ovvie ragioni di integrazione nella personalità il fatto che molti siano sessualmente inattivi spesso ha a che fare con problemi di salute che ostacolano l'attività sessuale ma che se fossero affrontati con uno specialista magari potrebbero essere aggirati più facilmente l'inattività sessuale ha a che fare con una malattia grave o il decesso del partner a livello individuale si tende a osservare una continuità fra le varie fasi del ciclo di vita che tradotto in parole povere significa che se uno era un maniaco sessuale un affamato un allupato un molestatore quello rimane ok? e se uno era una persona interessata ma rispettosa quello rimane e se uno aveva un appetito sessuale pari quasi allo zero più o meno quello rimane la qualità dell'espressione sessuale negli anziani è predittore di buone condizioni generali di salute e di benessere attenzione ho detto predittore non conseguenza conseguenza è facile sta bene è in buona forma è in buona salute quindi c'è un partner e fa sesso no anche il contrario è predittore non è solo predittore di buona salute è anche predittore di una buona percezione di sé e di una buona autocura la persona che si sente sessualmente accettata sessualmente attraente ancora in qualche modo oggetto di desiderio per qualcuno da cui ha piacere essere oggetto di desiderio è più motivata ad avere un buon stile di vita a prendersi cura della propria persona a farsi bella ma anche a tenere la propria salute c'è più motivazione c'è una migliore percezione di sé e qua in realtà c'è la parte più difficile di cui avremmo dovuto parlare però non potevo saltare tutta quella precedente qua è la parte più difficile perché pensiamo a quello che è il lavoro la gestione no è una parola orrenda vabbè pensiamo a quello che è l'intreccio complicato tra la vita in istituzione e la sessualità che va a toccare un sacco di aspetti va a toccare aspetti che riguardano la nostra professionalità e la fiducia che noi abbiamo nello svolgere il nostro lavoro e anche il margine d'azione abbiamo a che fare con questioni etiche ovviamente trattandosi di un aspetto così personale della vita della persona di cui dovremmo occuparci abbiamo a che fare con aspetti che riguardano la privacy i valori la capacità di dare consenso allo svolgimento di un'attività erotica la famiglia la salute il diritto e via discorrendo e qua diventa una cosa estremamente complessa chiariamo alcuni aspetti bisogna andare per spot e sono diventata pazza nell'ultimo mese a cercare qualsiasi cosa ho utilizzato il metodo scientifico siccome avevo una mia idea corroborata da anni di ripetizione delle stesse letture di ricerche sono andata alla disperata ricerca di qualcosa che andasse contro alle mie opinioni per paura di essere diventata nel tempo troppo faziosa e quindi ho cercato con tutta me stessa qualcosa che mi dicesse sì è vero i vecchi nell'istituto specialmente i maschi ma anche le femmine diventano molesti diventano sessualmente molesti e quindi sono andata a cercarmi i comportamenti devianti degli uomini anziani e delle signore anziane e sono andata a cercarmi i comportamenti devianti delle persone affette da demenza ok non ho trovato niente ve lo dico subito chiariamo subito diventando dementi non si diventa sessualmente molesti anzi è molto più probabile in percentuale statisticamente parlando che la demenza porti con sé una sorta di apatia dopo lo so che avete i dementi quelli in wandering che si muovono o quelli con i comportamenti affinalistici sì ma dal punto di vista sessuale è più facile che ci sia un calo brusco o una perdita di interesse piuttosto che il contrario dopo se qualcuno mi dice no ma io ce n'ho uno che è demente ok parliamo di situazioni in cui si arriva al massimo al 3% al massimo altra cosa interessante sono state fatte fuori dall'Italia le nazioni più attive sono il Canada l'Australia molti lavori interessanti sulla gestione si trovano presso l'università di Israele in posti che non vi aspettate c'è molta roba una ricerca molto interessante che utilizzava l'osservazione comportamentale l'osservazione comportamentale si fa di routine per classificare i comportamenti molesti sono andato a vedere le neuropsichiatriche e il venturi per esempio se qualcuno lo utilizza uno deve segnare i comportamenti molesti allora è stata utilizzata l'osservazione comportamentale fatta da giudici indipendenti da più osservatori riguardo al messenato di alcuni comportamenti molesti e poi si è fatto un confronto tra i comportamenti molesti così come venivano riferiti dagli operatori versus come li avevano invece classificati diversi osservatori indipendenti ecco allora per quanto riguarda gli aspetti prettamente sessuali c'era una discrepanza clamorosa tra l'attribuzione che veniva data di sessualità ad alcuni comportamenti scoordinati o confusi messi in alto da pazienti e dementi rispetto a come li avevano classificati diversi giudici indipendenti e questo significa che come posso dire che la sessualità non è nel comportamento ma è nell'occhio di chi la vuole vedere è un po' come se io mi metto un episodio buffissimo una volta mia suocera è una donna molto pia molto religiosa è andata a un pellegrinaggio in un paese dell'est tantissimi anni fa e l'autista che doveva essere un burlone e odiava le vecchie bigotte gli ha insegnato una filastrocca lei è tutta contenta arriva a casa ha una vicina che proviene da un paese dell'est è sfuggita dalla guerra e gli dice ah io ho imparato una bella canzone in tua lingua comincia a cantarla questa qua a momenti fa un collasso e sviene praticamente non so se gli aveva insegnato una canzone piena di bestemme di porcheria o di che cosa ok quindi in questo caso qua la parolaccia l'oscenità era nell'orecchia di chi ascoltava e non nell'intenzione di chi stava parlando lei ha parlato in una lingua che non conosceva non sapeva quello che ha detto ha detto delle sconcezze uguale quando parlate se lavorate fate un lavoro con i caregiver di pazienti che si approcciano che vivono ancora in famiglia si approcciano alla demenza li tranquillizzerete molto sul fatto che una delle prime cose potrebbe perdere la routine di vestirsi e quindi potrebbe uscire nudo il classico è con la camicia la giacca senza le mutande i calzini magari o anche no ecco anche in questo caso non è un comportamento sessuale la sessualità è nell'occhio di chi vede faccio sempre questo esempio perché dico se lo fa il vostro bambino di tre anni mamma mamma e scappa dal bagno mamma mamma ho fatto la caca da sola e mi sono lavata esce fuori in maglietta col sederino per aria tutti dicono che carino se lo fa vostro padre con una demenza conclamata tutti diranno il vecchio porco è proprio questo solo che se lo fanno delle persone che non sono del mestiere ci resto male posso scegliere se tranciarle dalla mia routine eccetera se me lo fanno delle persone che ci lavorano e che sono preparate in teoria e che sono pagate per fare quel lavoro lì e che sono pagate per il benessere e il rispetto di quelle persone lì ecco allora qua non mi sta più bene lo ripeto il sesto tante volte è negli occhi di chi lo vede quei comportamenti che possono sembrare marcatamente fastidiosi sessuali spesso sono si è spogliata all'improvviso cioè andiamo a vedere il motivo aveva caldo gli davano fastidi i vestiti doveva fare la pipì aveva un momento di rabbia e ha tirato via tutto cioè poteva distruggere il tavolo del pranzo ha tirato via tutti i vestiti ecco le avance sessuali altro problema interessante anche in questo caso potrebbe essere o che la persona si è proprio innamorata oppure che sta confondendo questo è un classico sta confondendo quella determinata persona per una moglie un marito un innamorato un amante questa è una cosa che riferiscono spesso e volentieri le figlie nei confronti dei padri e uno dice guarda la foto tua guarda la foto di tua mamma sei uguale a tua mamma lui probabilmente sta vivendo nel 1960 e ti sta facendo la corte e sono anche semplici semplici con chi gestisce i propri cari a casa alla fine ci si arriva sono anche semplici non c'è bisogno di avere brusche reazioni di alzare i toni eccetera sono anche semplici uno dice si va bene adesso mettiti lì vai a dormire e poi e poi arrivo guarda sono tua sorella e adesso torno la verità è che i comportamenti realmente molesti sono pochi e si possono caspita e si possono contenere si possono contenere utilizzando tatto delicatezza queste sono le linee guida senza possibilmente alzare la voce molto facilmente aiutando la persona a concentrarsi su un'altra cosa sappiamo come sono anche facilmente distraibili no abbiamo detto prima domandandosi che cosa può scatenare questo comportamento anomalo e via discorrendo e un accenno veloce la possibilità cosa succede quando delle persone si innamorano fra di loro e qua è un problema etico un problema molto grande qua ecco vi dico per chiarire subito non esiste una buona prassi purtroppo sono delle situazioni che vanno analizzate caso per caso prima bisogna vedere la capacità di consenso che hanno le due persone cioè sono in grado di rendersi conto si stanno facendo dell'attività erotica con qualcuno e soprattutto importantissimo queste persone sono in grado di poter dire uno stop quando la cosa non è più di loro gradimento questa è una situazione non di poco conto noi la risolviamo proprio inibendo questo tipo di attività negli Stati Uniti c'è un grosso can-can sono arrivati addirittura in alcuni casi a denunciare dei mariti che facevano sesso con le mogli con la legittima moglie diciamo a casa perché la moglie si lamentava la moglie molto deteriorata cognitivamente si lamentava in qualche modo aveva fatto capire in qualche modo al medico che non voleva fare delle cose con suo marito ma il marito la obbligava capite che è una cosa molto complicata in istituto si risolve diversamente a casa sono questioni molto delicate dovremmo anche cominciare a pensare a alcuni aspetti chi è venuto ai SIPI gli ultimi due anni lo sa abbiamo rilanciato il fatto che con la dottoressa Pisanò abbiamo rilanciato il fatto che in alcuni paesi ex europei e nord europei stanno cominciando ad aprire delle case di riposo io le chiamo gay friendly per accorciare la cosa e c'è molta discussione se sono delle enclave o se sono sembrano quasi dei giardini zoologici e però siccome se le sono costruite e progettate all'interno della comunità LGBT non è che le ha costruite un etero e ha detto adesso vi mandiamo tutti lì sarebbe anche interessante riflettere su questo perché la comunità LGBT in alcune nazioni ha sentito l'esigenza di creare delle case di riposo che fossero community friendly perché evidentemente ne avevano due scatole così di essere stati puntati all'indice o emarginati o presi in giro per tutta la vita e si sono detti almeno da vecchi fatemi invecchiare con calma allora noi ancora non le abbiamo e potremmo anche vederle di mal occhio perché uno potrebbe dire dove è tuo padre in casa di riposo quale? quella? no quella là ahhh cioè capito che seccatura e poi nel personale e il personale lo devo prendere gay friendly gay tolerant oppure LGBT cioè sono pensieri al momento molto più grandi di noi potremmo semmai come abbiamo cercato di fare con la dottoressa Pisanò provare a riflettere su quanti tra i nostri ospiti in casa di riposo hanno effettivamente delle esigenze che noi ragionando per standard non abbiamo contemplato mi tocca di fermarmi scrivetemi invitatemi no c'è l'ultima diapo dai dobbiamo sì è questa il nostro dovere è sempre quello di garantire o migliorare la qualità di vita dei nostri ospiti tutelare la dignità e la privacy rispettare l'autonomia eccetera e quindi dovremmo domandarci ho un problema con quell'ospite col sesso che cosa ci si attende da me cosa dovrei fare domandatevi sempre o domandate all'operatore se c'è un problema